Per una persona che esce da un master, quindi diciamo da una formazione di un certo livello, lei pensa che sia più opportuno inserirsi direttamente in una struttura tipo headquarter, quindi già per seguire una carriera diciamo avanzata, oppure un po' di formazione sul campo di animazione, di reception, non possa essere positivo anche per queste persone? Lei ha accolto veramente una grande area rispetto alla competenza che è necessaria per entrare nel mondo del turismo, che è quella di avere un'esperienza sul campo, per cui il suggerimento è quello sicuramente di approfittare facendo magari anche degli stage, anche per brevi periodi all'interno delle strutture e quindi l'invito è quello di mandare il curriculum per poi partecipare alla selezione per i villaggi e poi prevedere magari un percorso di crescita all'interno delle headquarter. Ovviamente noi cerchiamo poi per le nostre persone di valore, quindi per i nostri potenziali, di preparare dei percorsi per farli crescere all'interno della nostra struttura.